Cos'è cambiato dopo l'uccisione dei coniugi Solano nel centro di Mineo? Cos'è cambiato? Sì, allora Paolo, intanto posso dirti che in questo momento sono ospitati 2.200 immigrati e ce ne sono stati circa 1.000 che hanno lasciato il centro. C'è stato quindi un ridimensionamento, ma certo la situazione è ancora ovviamente complicata e Manuela questo lo voleva proprio ribadire. Sì, esatto. Ancora non è stato chiuso esattamente il CARA. È quello che noi vogliamo. Per avere la sicurezza bisogna chiudere il CARA. Che chi ha aperto il CARA si prende le responsabilità.